Beh, non è che deve soffrire il risultato, perché è il primo anno che piatteva niente. Ok, io ho visto il tempo, ho visto il tempo, la supercento non era essere un tempo, l'ho visto. No, ma fa il chilometro, non è così. Campanella di vino 38, dal prossimo giro in termine eliminazioni. Facciamo un giro? Vabbè, io non voglio sinassare, non mi interessa. Beh, ma di nuovo traguardo, dico! Eliminazione, 27. Una bicicletta, non vuole da fare, prego. Sì, sì. Numero 27, Interbacchi. Noi piuttosto che bici procuriamo il patino. Vai, l'itrago! Ma ora sì. Tanto lui sa che a quell'ora là non c'è nessuno, e hanno... Non voglio creare il discorso. No, vieni. Ma magari altri lo farebbero, lui non vuole creare. Ma Amas va su! Lui è in base a percorso. Rimini lontino al passaggio. No, non vuole da ricerciare. Ritta, attenzione, 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 Eric. Già 4, 5. 5 posti guadagnati. Bravo, Ricky! Bravo, Ricky! Bravo! Bravo! Attenzione, ragazzi, in più è sopraelevata, attenzione, attenzione. Lui è arrivato a percorso. Non è arrivato a percorso. Vero, girata all'esprovviso! Sì, bravo! Sì, bravo! Sì, bravo! Sì! Sì, bravo! Sì, bravo! Sì! Sì, bravo! Se viene fuori, se viene di patina, ha un ritmo che dopo, il giorno dopo, ha un ritmo che magari va a sovraccaricare soprattutto la schiena, perché alla fine si la tirano qui, tra i centina di schiena. Non solo quello che lui voglia fare, voglia fare magari qualche tipo di spazio. Si fa 500 il martedì, anche il mercoledì, il mercoledì fa stifo, quello è il discorso. Prova e fine. No, ma per arrivare a un altro, è il discorso. Vai, mi spazio! Inutrita il mio passaggio. E' quello che vorrebbe fare quello. Perché la brava, mi ha pensato che la rispetto a tante altre squadre. Sì, la base aerobica dovrebbe essere un po' più tecnica. Noi quando facevamo, però la facevamo in vera. Pare che la vince questa, dai. Pare che la vince questa. La vince questa. Siamo al passaggio di meno 28. Vedi che serve la base aerobica? Lì, è il sesto, settimo. Quanto manca? Ancora 27 in giro? Buon momento. La prossima eliminazione sarà a meno 23. Meno 23 nella prossima eliminazione. Siamo a meno 27 giri. No, no, no. Rischi di giro. Soprattutto se no... Perché quelli che fanno tanta base aerobica, l'hanno detto il motorino di solito, tanto la schiena si riposa. L'eliminazione è a meno 21. La prossima eliminazione è a meno 21. La prossima eliminazione è a meno 21. Quindi se tu ti fai l'ora di girare da solo, fai piano, fai fermare la schiena, non ti batte. Ma anche se tu vuoi fermare. Prossima eliminazione a meno 19. Ma anche quando... Vino 25 per la testa. Però ti dico, boh, io dai... un po' di salto di qualità, io l'ho fatto quando... andando dietro il motore e andando in bicicletta. Però... Vino 24 per la testa. Vino 24 per la testa. Non è che facevo il peruglio, andavo in giro?! No, ma io... Vino 24 per la testa. 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 Inoltre, hai una cosa che si fa. Il problema? Eh, non è master. Ma lui non ha le stesse... Quindi non lo sa niente. Vabbio, vabbio, vabbio. Zino 22 alla testa! Ho detto che deve tirar lui, che riscossi sotto! Sì, ma dopo praticamente metri due la testa si mette via, la riscossi. Come una troppo forte. Ma non ha capito... C'è il ritmo, c'è il problema. Lui è eliminato per taglia di percorso. Pensavo che lui andasse più forte da Alessandro. Sì, però sì. Però i batti... Deve andare più forte quella che non è qui. Che c'è, sì. La prossima calizzazione... Quindici... Occhio! Vino Vicky per la testa! E lui fa prendere. E lui fa prendere. E lui fa male. Ma sai, secondo me, veramente lì... Per me va bene farlo insieme. Anche se... Anche se che ha pesa un po'... Magari... Lascio decidere a lei. 19 giri. Ancora da fare. Comunque, secondo me, quando vai in 10 giri... È giusto che vada piano. Quando vai in 10... Si è piano. Non è che deve calzazzare. Però... Però... È giusto che vada a basso in più. Il cavolo fa... E lui 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 fa... E lui... E lui fa... 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 Meno17! Ecco siamoая... Come hai fatto il fondo? Poi però... Secondo me... E' anche un peccato... Andare lì. E fare quello per ruole. Lui... Così... guarda... Quando sei... dal prossimo giro riprenderò l'eliminatore perché ce ne sono tanti che fanno il programma di palestra e non sanno cosa fanno coi fatti hanno un allenatore ci sono anche storie perché hanno un allenatore per la palestra e uno per i fatti che non si fanno io non vi capisco onestamente perché se tu mi spacchi i pezzi il giorno dopo c'hai da fare la tazzica e sei morto quindi non è che sei ancora in gara campanelli 1912 stava morendo 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 adesso è qui 1 6 5 mi siB e tocco a corda nello più quality meno poi una a frente non siB tagli al caldol Guarda che hanno lato anche 2-0-3 C'è un paio di minuto 12 Eh, anche lui Ha fatto meglio che nella corte e nella corte Ha fatto meglio che nella corte Cos'è? Undicesimo? Basta la mia buona eliminazione Vai, non male, non male La mia buona eliminazione Tra l'altro qua è la sbava che fu dietro a Riccardo Ma è ancora dei tempi dentro E' ancora dei tempi Ancora dei tempi Pino 10 Dai che lo passi E' partito Canta l'eliminazione numero 9 Vai in l'altro giro Vieni duri Ma c'era ancora un piano Non era l'eliminazione prima? Eh no, era l'eliminazione ma lui... Adesso era l'eliminazione ma lui è caduto. Hai fatto meglio della corda, vai! Poi tra l'altro... Cioè adesso te lo vedono... Non è che non patti male che tanto. Cioè no, a parte che... Ok che rimane... Numero 26 Ma infatti l'ho visto adesso per fare questa gara qua... No, probabilmente... Questa è la cesta Questa è la cesta... Puglia... 61 a Bonito, 7-1 con il fiore, a 100 dritta è un'altra gara, a 100 dritta è un'altra gara, a 100 dritta è un'altra gara, a 100 dritta è un taglio di meno 4, 30 dritta è un paio, a 100 dritta è un passaggio, 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 6-4, ed è un passaggio, a 100 dritta è un passaggio, Grazie a tutti.